I carabinieri di Cassano Magnago e di Busto Arsizio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne autore di una rapina. L'uomo la sera del 30 giugno scorso, come vedete in queste immagini, con il volto parzialmente coperto dalla mascherina chirurgica e con il cappellino da baseball, è entrato all'interno di una gelateria di Cassano Magnago e dopo aver aggirato il bancone si è diretto contro la dipendente puntando una pistola e chiedendo la consegna della somma in denaro presente nel registratore di casse nella cassaforte. Per assicurarsi la fuga con il cospicuo bottino di 3.000 euro, le ha anche intimato, sempre minacciandola, di non uscire dal magazzino. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica e di raccogliere, grazie anche alla testimonianza, circostanziati elementi di prova a carico dell'indagato. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata questa mattina nella casa circondariale di Bustarsizio, dove l'uomo si trova già arrestato, sempre per rapina, con lo stesso modo superandi e in concorso con un complice, ai danni di un Bartabacchi di Cardano a campo la sera del 2 maggio scorso.